Sicuramente la potenza ai bassi regimi dovuta al duo pro perché credo sia un'innovazione a livello mondiale storica e credo che possa fare la differenza rispetto alla concorrenza. Sicuramente sì, per adesso non ancora multiple perché noi al massimo arriviamo a 600 cavalli però sicuramente singola sarà molto importante per esempio per lo 085 SL dove già col 300 avevamo buone prestazioni con questo sicuramente avremo un connubio gommone motore fantastico. Ma sicuramente maggiore stabilità, non sente lo spin dell'elica, c'è la possibilità sicuramente in virata mantenere molto meglio la rotta e poi sarà sempre in spinta.